Proclamo quindi eletto Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, il Consigliere Fabio Pinelli. E' l'Avvocato Padovano Fabio Pinelli, nuovo Vice Presidente del CSM e Consiglio Superiore della Magistratura. Indicato dal centro-destra, della Lega in particolare, dopo un testa a testa con Roberto Romboli, costituzionalista indicato dal centro-sinistra, Pinelli ha avuto la meglio alla terza votazione con 17 preferenze a 14. Pinelli. Poi dopo l'elezione l'augurio del Presidente Sergio Mattarella e il primo discorso di Pinelli che vuole essere credibile e trasparente nell'interesse del Paese con l'ispirazione del Presidente della Repubblica. Veramente onorato del gravosissimo incarico e ruolo che mi avete riconosciuto. E' una grande emozione, mi rendo conto della gravosissima responsabilità. Orienterò ogni mio comportamento nell'interesse del Paese e con la guida e il faro del Signor Presidente della Repubblica. Pinelli in passato ha difeso Luca Zaia nel processo sui FAS, ma anche due noti leghisti come Siri e Morisi. Laureato a Milano, vive a Padova e nelle prime parole ha citato il giudice Rosario Livatino, che a soli 38 anni fu ucciso dalla mafia mentre, senza scorta, percorreva la strada che portava al Tribunale di Agrigento. Grazie. 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 Grazie.